I carabinieri hanno fermato un ragazzo di 14 anni presunto responsabile di due tentativi di rapina nei quali ha coltellato in modo non grave due donne, prima in via Cascia a Bari Carbonara e subito dopo in via Rocca Porena nel quartiere Santa Rita. Il minorenne è indiziato di tentata rapina e tentato omicidio. Da una prima ricostruzione dell'episodio di Carbonara l'aggressione non sarebbe avvenuta al culmine di una lita tra condomini, come in un primo momento le urla udite avevano lasciato intravedere ai vicini. Pare invece che il 14enne sia riuscito a farsi aprire la porta di casa da una coppia di anziani che ha reagito alla richiesta di consegnargli i soldi che avevano in casa. Il minorenne avrebbe allora coltellato al petto la donna di 63 anni, fuggendo subito dopo. Il ragazzo avrebbe poi raggiunto via Rocca Porena dove avrebbe tentato di rapinare un'anziana sola in casa che però ha reagito venendo ferita e il 14enne è stato rintracciato dai carabinieri mentre cercava di nascondersi in un vicolo.